279 nuovi casi di covid confermati dai tamponi molecolari, 4.675 quelli processati per un tasso di positività del 6%. Se a questi aggiungiamo i 6.813 test antigenici effettuati nelle ultime ore, il tasso di positività scende al 2,4. Il più anziano tra i contagiati ha 94 anni, il più piccolo 5 mesi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1.349. Si tratta di persone d'età compresa tra 47 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 3 nell'Aquilano e 1 nel Pescarese. 331 sono invece dichiarati guariti. Attualmente in Abruzzo sono 10.987 positivi accertati, meno 59 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 443 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 45 con 4 nuovi ricoveri per un totale di una persona in più rispetto a ieri sono invece in terapia intensiva. Gli altri 10.499, meno 60 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I dati sono forniti dall'assessorato regionale alla sanità.